ciao sognatori e benvenuti in questo nuovo video io sono Elle e oggi eccomi qui con un nuovo video della mia serie suoni per dormire e oggi ho 5 suoni per voi, per farvi addormentare o perlomeno per aiutarvi allora il primo suono è uno molto richiesto dal mio pubblico italiano ossia la spazzola che è anche un suono che adoro personalmente il secondo suono sono questi fiorellini in realtà è una coroncina di fiore però fanno un suono, non lo so, veramente veramente stupendo e particolare il terzo suono il terzo suono questo suono si chiama Sticky 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 Tapping o comunque Finger Tapping in poche parole il tapping con le dita con i polpastrelli e per fare questo tipo di suono ho preso il mio volume preferito del mio manga preferito black power black power il suono numero 4 il suono numero 4 è l'ear brushing fatto con questo pennello qui che è il pennello per il make up è la prima volta che faccio un mic brushing con questo pennello che in realtà che in realtà la avevo già qui sopra perché ho da poco finito di registrare altri due video e quindi ce l'avevo qui e mi sono decisa di fare il brushing con questo pennello e l'ultimo suono il quinto è il suono leggermente più particolare perché è un ear cupping ma fatto con le cuffie vi mostro vado a mettere le cuffie sopra le orecchie del microfono quindi viene fuori questo suono un po' particolare che personalmente mi piace tantissimo e per giunta ho anche fatto uno talking dedicato a questo trigger che poi pensandoci non è proprio un ear cupping ma va bene dunque indossate gli auricolari e iniziamo questo video che suono meraviglioso che suono meraviglioso che suono che suono che suono meraviglioso che suono meraviglioso e ho anche intenzione di alternare il whispery, il susurro, con il soft spoken che è da sempre il mio tono di voce preferito le setole di questa spazzola sono molto morbide, molto ed anche il tapping è molto gradevole è da un po' di tempo che non riprendevo questo questo genere di video di suoni per dormire in italiano ho fatto due, tre e quattro suoni per dormire prima di questo quindi mi sembrava giusto farne cinque vediamo dove arriviamo qui 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 questo è uno dei suoni preferiti di questa sessione suoni 5 suoni per dormire mi piace tanto perché è un suono un po' particolare questa coroncina di fiori la feci già vedere tempo fa e non vedi chiacchiere? ok 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 rilassati e ascolti questo bello suono no, ma non è carissimo ok 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 diamo un po' la spazio, tutti e voi Hmm questo mi risulta un pochino leggero forse per chi ama i suoni leggeri questo sarà un bel brushy ma per chi ama i suoni più forti, tipo me che lo considero un po' troppo leggero ma vabbè se non trovavo non potevo mai sapere com'era era da un po' di tempo che volevo fare un video con questo pennello su questo microfono perchè già dalla vista si vede che è un pennello soffice comunque ci sono dei cani che stanno abbaiando e sono le due di notte ma non credo che si sentano molto, o almeno spero di no perchè sono abbastanza lontani solo che con questo microfono li sento giustamente perchè capta i suoni in 3D è veramente un microfono super iper mega sensibile e ora andiamo con l'ultimo suono sono le cuffie quindi per fare quel suono devo tenere fiori piccato che bello e per giunto mi si sta anche scaricando la fotocamera a proposito prima che registravo questo video no prima di questo ma prima degli altri video che ho registrato avevo tutto pronto e si era scaricata la pila la lampadina qui sopra e quindi ho girato per casa tipo a cercar una lampadina nuova questa mi mancava è bellissimo è bellissimo con le cuffie sopra il suono si sente abbastanza lattato e mancazato sia in condivale e mancazato sia in grado Grazie a tutti. 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 Spero che questi suoni vi siano piaciuti. A me, tanto. In particolar modo, mi è piaciuto questo della cuffia, mio Dio stupendo. E i fiorellini, ovviamente anche la spazzola, perché il suono della spazzola lo adoro, specialmente quando uno poi si pettina i capelli. Però non era il caso di questo video. Però fatemi sapere se vi va un video dove mi spazzolo i capelli. E fatemi sapere quali sono stati invece i vostri suoni preferiti. Io vi mando un bacione immenso e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye. Bye bye.